Disavventura per due donne terramani che in due casi distinti hanno vissuto ore di paura. Questo a causa dei risultati delle analisi del sangue che hanno fatto cadere nella disperazione più totale le pazienti che hanno immaginato un futuro di sofferenza per poi scoprire fortunatamente che era tutto un errore. A denunciare i due casi è stato Pasquale Di Ferdinando, presidente dell'associazione Robin Hood, a cui le due donne si sono rivolte per tutelare i propri interessi. Tutte e due sono legate alla sanità e tutte e due sono riferibili a delle analisi del sangue che erano errate. Un intervento importante da fare è scoprire di essere malati di AIDS che non è una passeggiata e quindi è una malattia molto molto importante. Quindi essere intanto rimandati come ultimi nella lista degli interventi perché chiaramente bisogna attrezzare questa sala per tutelare gli operatori e per un intervento di ammalati di questa malattia, scusatemi la calcofonia. E dopodiché stare in anza fin quando non si sono fatte le analisi di avere oltre al problema della malattia per cui si era sottoposti all'intervento anche quest'ultimo accertamento negativo per una malattia fortemente invalidante e poi scoprire che non era vero. Un problema molto serio, non affronteremo questa cosa sempre in termini conciliativi e laddove non ci sarà il danno di carattere morale, l'ansia che si aggiunge all'ansia che già era presente e chiaramente andrà risarcito. L'altro invece ha generato la necessità di andare in un centro di specializzazione medica in Italia questi operatori medici gli hanno detto guardi signora devi tenere sotto controllo questo ormone se questo ormone cresce lei deve correre subito qui. Quindi la signora ha lasciato subito il lavoro per andare in questo centro specializzato a Pisa dove hanno poi riscontrato che non c'era niente, che le analisi erano corrette e quindi questa urgenza non c'era più. Su questo caso l'ASL ha già provveduto a dare risarcimento e non ci sono problemi.